Buonasera carissimi telespettatori, buonasera grazie per essere qui ad una nuova puntata, un nuovo appuntamento della Casa della Parola a cura di Don Fabio Pizzitola. Sono qui per invitarvi sempre in maniera sentita, oggi ancora più sentita, a partecipare a questa trasmissione perché come sapete oltre ad essere un approfondimento biblico dei testi che Don Fabio oggi ci propone attraverso la nostra lettrice, grazie di essere qui alla Erika Lucido, ricordo che quest'anno abbiamo questa bellissima convenzione con The Academy che ci consente di avere questi giovani leve e futuri professionisti in seno alla nostra rubrica. Vi dicevo quindi partecipate, siate numerosi anche con i commenti o con i chiarimenti che vorrete fare a Don Fabio Pizzitola, a cui do la parola. Bene, ciao Sabina, un caro saluto a tutti voi, ci mettiamo come sempre in preghiera. Questo giovedì faremo un percorso sul tema della regalità in Israele e poi la regalità di Cristo. Veniamo dalla domenica, dalla solennità di Gesù Cristo, il Re dell'Universo, ultima domenica dell'anno liturgico e andiamo verso l'inizio del nuovo anno liturgico e pastorale con l'inizio dell'Avvento, domenica prossima. Faremo dunque un percorso sulla regalità in Israele e poi vedremo un attimo il passaggio all'attesa messianica, l'attesa di un unto, il principale appunto unto, il consacrato, il Re particolare, che Israele a un certo punto del suo percorso di fede e teologico inizia ad attendere. Per noi quel Re particolare che è venuto in mezzo a noi appunto Gesù e dalla settimana prossima, da domenica, inizieremo proprio questo cammino di attesa verso il Natale. Ci mettiamo dunque in preghiera invocando il dono dello Spirito Santo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. Con Te solo a guidarci fa che Tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori. Non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata, né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa che troviamo in Te la nostra unità, affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a Te che sia l'opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. Quando Samuele fu vecchio, stabilì il giudice di Israele e i suoi figli. Il primo genito si chiamava Joele e il secondo genito Abia. Erano giudici a Bezzabea. I figli di lui però non camminavano sulle sue orme, perché deviavano dietro il guadagno, accettavano regali e stravolgevano il diritto. Si radunarono allora tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli dissero, tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli. Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto, dacci un re che sia nostro giudice. Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore disse a Samuele, Ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro, come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dèi, così stanno facendo anche a te. Ascolta pure la loro richiesta, però ammoniscili chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo, che gli aveva chiesto al re, e disse, Questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà correre davanti al suo cocchio. Li farà capi di migliaia e capi di cinquantine. Li costringerà ad arare i suoi campi, mietere le sue messi e a prestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per fare le sue profumiere, cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli, e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori e i vostri asini, e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggie e voi stessi diventerete i suoi servi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse, No! Ci sia un re su di noi! Saremo anche noi come tutti i popoli. Il nostro re ci farà da giudice, uscirà la nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all'orecchio del Signore. Il Signore disse a Samuele, Ascoltali, lascia regnare un re su di loro. Ascoltali, lascia regnare un re su di loro. A dire questa frase è il re, il re per eccellenza, Dio stesso che è re, pastore, guida del suo popolo. Il testo che abbiamo ascoltato al capitolo 8 del primo libro di Samuele è un testo classico per quella che è la cosiddetta disputa monarchica che si sviluppa in Israele in una fase particolare della sua storia, dopo che il popolo è stato liberato dall'Egitto, è stato per 40 anni condotto nel deserto fino all'ingresso nella terra promessa. Bene, da quel momento in cui il popolo entra, o insieme, secondo appunto la visione del libro di Giosuè, o a tribù per tribù, secondo la visione di altri testi come il libro dei giudici, bene, dopo l'ingresso comunque del popolo nella terra di Cana, nella terra promessa, Israele vive una fase così intermedia tra appunto la schiavitù in Egitto, la peregrinazione del deserto e l'inizio della monarchia, una fase in cui il popolo viene guidato da alcune figure carismatiche che Dio stesso suscita, ed è tutto questo viene raccontato soprattutto nel libro dei giudici. Queste figure carismatiche che hanno un ruolo di governo, un ruolo di guida, ma hanno anche un ruolo di culto, in un certo senso, è certamente un ruolo giudiziare, sono appunto i giudici in Israele. Ve ne sono tantissimi, ve ne sono diversi, uomini e donne. Tra questi spicca soprattutto Samuele, l'ultimo grande giudice di Israele, e che vive proprio il dramma della frattura, ecco, che si viene a creare in questa disputa, che si fa sempre più forte in Israele, sulla questione monarchica. Samuele cerca di mantenere il popolo di Israele nella sua identità specifica, nelle sue caratteristiche peculiari, di essere un popolo che non ha un re umano, un re terreno, perché Dio stesso cammina come re in mezzo al suo popolo. Pensiamo come Dio ha costituito Israele e suo popolo, proprio liberandolo dalla schiavitù dell'Egitto, ecco, e facendone un popolo proprio al Sinai, con il dono della legge, guidando il popolo nel deserto, fino all'ingresso nella terra promessa, attraverso Mosè prima, e poi Giosuè, e poi tutti i giudici. Israele sente il fascino dei popoli limitrofi e si chiede perché tutti i popoli hanno un re umano, terreno, al quale possono rivolgersi in maniera diretta, mentre noi, Israele, popolo di Dio, popolo dell'alleanza, non abbiamo un re terreno, ma possiamo relazionarci al nostro re, che è Dio, attraverso i giudici, attraverso i profeti, che parlano all'orecchio di Dio. No, vogliamo un re in carne ed ossa. Questa è la questione, che è sintomo di una profonda tentazione che il popolo vive di adeguamento politico, ma anche religioso, sociale, ai popoli limitrofi, che tutti, appunto, avevano un re. Pensiamo a Edomo, pensiamo a Moab, e tutti i popoli vicini. Samuele cerca di tenere retta la fede del popolo nella unicità del proprio re, appunto il Signore, ma ecco al termine di questa disputa che assume toni sempre più accesi, Samuele confidandosi nella preghiera con Dio. Che bello vedere Samuele che parla all'orecchio di Dio. Dio stesso suggerisce gradualmente a Samuele di sciogliere la propria riserva e di dare al popolo un re. Ecco la frase che abbiamo ascoltato, ascoltali, lascia regnare un re su di loro. La questione del re, dunque, si pone in questi termini. Una grande disputa che avviene nel periodo di passaggio, appunto tra la liberazione dall'Egitto, l'ingresso nella terra, e il momento in cui finalmente il popolo, in Saul, individuerà il primo re. Una fase di passaggio, determinata da una grande disputa. Dio è il re di Israele, eppure Israele ottiene un re umano che rappresenti tale regalità. Ecco, la regalità in Israele affonda comunque biblicamente la sua origine è la regalità di Dio. E il re in Israele sarà sempre immagine di Dio, addirittura sarà figlio di Dio. Ecco, nel senso di una adozione. Il re sarà il rappresentante di Dio in mezzo al popolo. Per questo il re è il pastore, il re è la guida. Il re incarna i tratti di paternità di Dio stesso. Quindi, prima di tutto, quando diciamo che Gesù è il re dell'universo, già dobbiamo risalire all'origine biblica di questa regalità. Non è un re nel senso delle monarchie medievali o moderne o addirittura contemporanee. Pensiamo all'Inghilterra, oppure a tutto il Commonwealth che riconosce nel re la guida, non solo politica, ma anche religiosa del popolo. No, non si tratta di questo. Ma si tratta esattamente di un riflesso della paternità di Dio. Il re, dunque, è immagine di Dio in mezzo al popolo. Il re è un mediatore, è importantissimo questo tema dei mediatori. Il popolo può rapportarsi a Dio attraverso alcuni mediatori, figure di mediazione, tra cui la prima che spicca è sicuramente quella del re, che è il consacrato. Il Messia, appunto, è l'unto, il consacrato, il re. Il rito dell'unzione con l'olio avveniva soprattutto e prima di tutto per il re, che appunto era l'unto, il consacrato. A un certo punto, anche nella istituzione, nella consacrazione dei sacerdoti, iniziò ad usarsi l'olio. Anche i sacerdoti, dunque, erano mediatori tra Dio e il popolo, soprattutto nelle questioni riguardanti il culto e la preghiera, settore comunque nel quale anche il re aveva un ruolo. Re e sacerdote, quindi la monarchia e il sacerdozio, sono le due figure principali che fungono da mediatori istituzionali tra Dio e il popolo, appunto. Quando però il re e il sacerdote si corrompono, spesso capita questo, tant'è che Samuele, quando cercava di difendere l'unicità della regalità di Dio, quindi il rifiuto di dare al popolo un re, faceva riferimento proprio alla corruzione, che presto o tardi sarebbe subentrata nelle figure umane dei diversi re che si sarebbero succeduti. In effetti, Dio, quando il re e i sacerdoti si corromperanno, susciterà altre figure di mediazione, non più istituzionali, ma carismatiche, profetiche, appunto i profeti. Il re, il sacerdote e il profeta sono le figure di mediazione. Vedremo più avanti che, dinanzi alla corruzione ripetuta e costante della monarchia, gradualmente Israele inizierà ad attendere un re ideale, non un messia, non un consacrato, ma il messia, per eccellenza, che finalmente possa incarnare ideali della regalità in Israele. Gradualmente, da crisi in crisi, da difficoltà a difficoltà, inizierà a farsi strada l'idea di un'attesa, di un re per eccellenza, un re ideale che finalmente Dio, un giorno, avrebbe dato al popolo, liberandolo dai suoi peccati, liberandolo dalla schiavitù, dall'oppressione interiore, morale, ma anche politica. Vedremo nel secondo passaggio, tratto da Isaia, come gradualmente si fa strada l'idea di un re ideale, il messia, per eccellenza. Noi abbiamo conosciuto Gesù il Cristo, gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù il Cristo, ma lo attendono ancora. Lo vedremo nel secondo passaggio, quando appunto gradualmente Israele inizierà ad attendere un re ideale, appunto il messia. Questa sera vi proponiamo due video anziché tre, perché il primo è un po' più lungo, però l'ho trovato molto interessante, perché è un nuovo progetto, si chiama The Bible Project, in italiano chiaramente, che ha questa ambizione di spiegare in pochi minuti interi libri della Bibbia, e lo fa una voce narrante, ma anche un disegnatore, velocissimo, che nel frattempo viene raccontata la storia di quel libro, evidenzia il personaggio o i simboli del racconto. Bene, io ve lo propongo, questo è un po' lungo, ma vale insomma per due, diciamo, momenti di stacco, perché è il primo libro di Samuele con questa parte che ci è stata appena spiegata da Don Fabio Pizzitola. Il primo è il secondo libro di Samuele. Nelle nostre Bibbie moderne sono due libri separati, ma tale divisione è dovuta semplicemente alla lunghezza del rotolo. Originariamente furono scritti come una storia unica. In questo video analizzeremo soltanto il primo libro di Samuele. Dopo essere stato liberato dalla schiavitù in Egitto, il popolo di Israele stipulò un patto con Dio al monte Sinai e infine raggiunse la terra promessa. A questo punto ci si sarebbe aspettati che Israele fosse fedele a Dio e obbedisse ai comandamenti del patto. Prima del libro di Samuele, il libro dei giudici aveva mostrato come Israele avesse fallito miseramente in quel compito. Fu un periodo di caos morale che mostrò il bisogno di Israele di avere leader saggi e fedeli. Il libro di Samuele fornisce proprio una risposta a quel bisogno. Il libro si concentra su tre personaggi principali. Il profeta Samuele, dal quale prende il nome il libro, poi il re Saul e infine il re Davide. Questi tre personaggi garantirono la transizione di Israele da un gruppo di tribù governate da giudici in un regno unificato guidato dal re Davide a Gerusalemme. Il libro di Samuele ha una struttura accattivante che intesse la storia di questi tre personaggi in quattro parti principali. Il profeta Samuele è il leader chiave nella prima sezione del libro. Svolge però un ruolo determinante anche nella sezione successiva, ovvero la storia di Saul, che ci viene narrata in due parti, l'ascesa di Saul al potere e poi i suoi fallimenti. La seconda parte parla del suo declino e della sua tragica morte. Al dramma della scomparsa di Saul corrisponde l'entusiasmante ascesa al potere di Davide, la cui storia viene raccontata in due sezioni. In principio, Davide cavalca l'onda del successo, seguita dal suo drammatico fallimento personale nella lenta autodistruzione della sua famiglia e del suo regno. Il libro si conclude con un epilogo di riflessione sull'intera storia. Approfondiamo e vediamo come si sviluppa la trama. La prima parte si riconnette alla situazione di caos del Libro dei Giudici. Viene introdotta la storia commovente di una donna di nome Anna, afflitta perché non è mai stata in grado di concepire un figlio. Con la grazia di Dio riesce infine ad avere un bambino che chiama Samuele. Presa dalla gioia, intona questo meraviglioso canto poetico contenuto nel capitolo 2. Il canto parla di come Dio si opponga ai superbi ed esalti gli umili. Parla inoltre di come Dio, nonostante le tragedie e la malvagità umana, stia pianificando i suoi obiettivi nella storia. E anche di come un giorno Dio farà salire al trono un re unto per il suo popolo. Il canto di Anna è stato collocato qui, all'inizio del libro, per introdurre i temi chiave presenti nel corso dell'intera storia, come ad esempio proprio quello che segue. Una volta cresciuto, Samuele diventa un grande profeta e leader del popolo di Israele nello stesso periodo in cui i filistei acquisiscono un grande potere come acerrimi nemici di Israele. In questa battaglia cruciale, gli israeliti diventano arroganti e invece di pregare Dio e chiedergli aiuto, esibiscono l'arca dell'alleanza come una sorta di trofeo magico che automaticamente garantirà loro la vittoria in battaglia. Come conseguenza dell'arroganza di Israele, Dio permette che essa perda la battaglia e l'arca viene rubata. I filistei si impossessano dell'arca e la collocano nel tempio del loro dio, Dagon. Subito dopo, il dio di Israele sconfigge i filistei e il dio Dagon senza alcun esercito inviando delle piaghe al popolo. A quel punto i filistei vogliono disfarsi dell'arca, ovviamente, e per questo motivo la restituiscono a Israele. Il punto importante di questa breve storia sembra essere questo. Dio non è il trofeo di Israele e si oppone alla superbia dei filistei ma anche a quella del suo stesso popolo. E così Israele deve restare umile e obbediente se vuole sperimentare la benedizione del patto di Dio, dettaglio che apre la vasta sezione successiva. Gli israeliti vanno da Samuele e gli dicono che anche loro vogliono un re come tutte le altre nazioni. Trovaci un re sembra essere il loro nuovo e unico obiettivo. Samuele è piuttosto infastidito e va a consultarsi con Dio. Dio gli risponde che le loro intenzioni sono del tutto sbagliate ma se vogliono davvero un re allora che gliene venga dato uno. E così ci viene presentata la figura di Saul. Si tratta di un personaggio la cui storia evolverà in maniera drammatica e che all'inizio però sembra promettere bene. È alto di bell'aspetto un candidato perfetto per diventare re ma ha dei grandi difetti caratteriali è disonesto e manca di integrità. inoltre sembra incapace di riconoscere i propri errori e pertanto queste debolezze diventano la causa della sua rovina. All'inizio vince alcune battaglie ma le pecche della sua personalità diventano così gravi da non renderlo più idoneo al suo ruolo. Disobbedisce sfacciatamente ai comandamenti di Dio. Samuele ormai anziano affronta Saul e Israele. Aveva già avvertito il popolo che la loro scelta di essere governati da un re avrebbe creato reali benefici solo se il re fosse rimasto umile e fedele a Dio altrimenti i re di Israele avrebbero condotto alla rovina il paese. Samuele informa Saul che Dio farà salire al potere un altro re per rimpiazzarlo. Da questo momento comincia la caduta di Saul. Nel frattempo Dio opera dietro le quinte per portare al potere quel nuovo re. È un pastorello insignificante di nome Davide di certo il candidato meno probabile per diventare re. La famosa storia di Davide e Golia mostra come Davide sia stato scelto non per via del suo status familiare bensì per la sua fede profonda e umile nei confronti del Dio di Israele. Ecco come questa storia racchiude tutti i temi del canto poetico di Anna. Saul e Golia ovvero i superbi sono umiliati mentre l'umile Davide viene esaltato. Da questo momento Saul sprofonda lentamente nella pazzia mentre Davide sale al potere. Davide comincia a lavorare per Saul come generale vince tutte le battaglie e conquista anche tutta la fama possibile. Per questo motivo Saul si ingelosisce e inizia a dare la caccia a Davide per provare a ucciderlo. Davide non ha fatto niente di male per cui si limita a fuggire ad aspettare nel deserto. Qui viene messo in evidenza il vero carattere di Davide e si presentano diverse occasioni di uccidere Saul ma non lo fa. Semplicemente confida nel fatto che nonostante la malvagità di Saul Dio farà salire al potere un re per il suo popolo. La cosa interessante è che molti dei canti di Davide nel libro dei salmi sono legati proprio a questo stesso periodo della sua vita ed esprimono tutti questo stesso atteggiamento di totale fiducia. Questa sezione del libro si conclude con la morte orribile di Saul dopo aver perso una battaglia contro i filistei. Il primo libro di Samuel racconta alcune delle storie più intricate meglio narrate della Bibbia. I personaggi Saul e Davide vengono ritratti in modo molto realistico e l'autore li presenta fornendo una dettagliata analisi della loro personalità affinché ci possiamo identificare in loro. Nella storia di Saul dunque notiamo un avvertimento. È di cruciale importanza fare una riflessione sui nostri difetti caratteriali e sul modo in cui essi danneggiano noi e le altre persone. Con l'aiuto di Dio dobbiamo umiliarci e affrontare il nostro lato oscuro affinché la storia di Saul non diventi anche la nostra. D'altra parte Davide viene presentato come un esempio di pazienza e di fiducia nel tempismo di Dio e nella sua capacità di agire nelle nostre vite. Egli fugge nel deserto inseguito da Saul e ha tutti i motivi per pensare che Dio lo abbia abbandonato ma non lo fa e dunque la storia di Davide ci incoraggia a confidare nel fatto che nonostante la malvagità umana Dio sta realizzando i suoi obiettivi ovvero opporsi ai superbi e innalzare gli umili ed ecco di cosa parla il primo libro di Samuele. Il re quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno disse al profeta Nathan vedi io abito in una casa di cedro mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda Nathan rispose al re va fa quanto hai in cuor tuo perché il Signore è con te ma quella stessa notte fu rivolta a Nathan questa parola del Signore va e dia il mio servo Davide così dice il Signore forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti io infatti non abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi sono andato sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato il pascere il mio popolo Israele perché non mi avete edificato una casa di cedro ora dunque direi al mio servo Davide così dice il Signore degli eserciti io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge perché tu fossi capo del mio popolo Israele sono stato con te dovunque sei andato ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra fisserò il luogo per Israele mio popolo e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele ti darò il riposo da tutti i tuoi nemici il Signore ti annuncia che farà a te una casa quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri io susciterò un tuo discendente dopo di te uscito dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre e sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio se farà il male lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo ma non riterò da lui il mio amore come l'ho ritirato da Saul che ho rimosso di fronte a te la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te il tuo trono sarà reso stabile per sempre Nathan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione davvero interessante l'intreccio sul tema della regalità e vediamo anche con una punta sul sacerdozio è l'origine dell'attesa messianica che affonda appunto la sua radice in questo testo del secondo libro di Samuele al capitolo 7 versetto da 1 a 17 dopo il bel video che ci ha proposto Sabina che ci ha fatto vedere un po' l'ascesa e il declino dei re umani Saul un grande bell'aspetto una grande ascesa e poi finisce miseramente per via del suo carattere per via del fatto che non riconosce i suoi limiti i suoi difetti così in fondo anche Davide che pure è il più grande re di Israele con Davide il regno ebbe la più grande ampiezza che mai poté raggiungere pure anche lui fu protagonista di un'ascesa e poi di un declino ecco ritorna l'idea che la regalità vera unica è quella di Dio ritorna il tema della disputa sulla monarchia Israele non doveva avere un re perché l'unico vero re è appunto il suo Dio Dio era cosciente che qualsiasi re umano Israele avesse avuto ecco chiunque ecco avrebbe tradito le grandi attese del popolo e così questo tema della attesa di Israele di avere un re umano e della delusione di queste attese inizia gradualmente a intrecciarsi con l'attesa di un re ideale che di un giorno finalmente poteva donare al suo popolo è un testo che ho scelto questo perché lega bene domenica scorsa domenica di Cristo re con domenica prossima all'inizio dell'avvento determinato dalle grandi profezie messianiche circa l'attesa appunto del messia che per noi è Gesù Gesù di Nazareth Gesù appunto che chiamiamo il Cristo messia significa unto Cristo in greco Christos significa apparimenti unto come si sviluppa tutto questo raccontiamo di questo testo fondamentale circa l'attesa messianica Davide a un certo punto che abita la sua reggia vuole costruire a Dio un tempio una casa perché i segni della liberazione l'arca dell'alleanza e tutti i segni appunto del cammino nel deserto che dimoravano nella tenda ecco all'interno della quale era costruito sempre con tendaggi il santo dei santi il tabernacolo finalmente potesse essere collocato all'interno di una struttura stabile in muratura enorme in modo tale che Gerusalemme a un certo punto avrebbe potuto avere una regge accanto alla regge il tempio e l'idea no dei due poteri il potere politico e civile e il potere religioso il potere sacrale Davide ha questo desiderio sappiamo che questo desiderio si realizzerà non con Davide ma con suo figlio Salomone uomo di pace a differenza di Davide che era un grande condottiero un uomo di guerra una persona battagliera che uccise molti uomini e per questo non poter lui in prima persona costruire il tempio sarà lui a preparare la costruzione del tempio ma il tempio di Gerusalemme sarà costruito appunto da Salomone il primo tempio quello che fu costruito appunto da Salomone che poi verrà distrutto quando Gerusalemme cadde sotto l'attacco degli eserciti babilonesi il popolo fu portato come sappiamo in esilio quando Davide vuole costruire una casa un tempio a Dio per collocarvi i segni dell'alleanza e i segni dell'esodo fondamentalmente l'arca dell'alleanza Dio fa sapere a Davide tramite il profeta Nathan vedete l'intreccio sui mediatori il re che è il mediatore per eccellenza ma quando il re scantona devia dalla sua integrità morale spirituale politica Dio lo riconduce sulla retta via attraverso un mediatore non istituzionale ma carismatico che Dio stesso suscita liberamente affermando la sua regalità allora Israele ha un re umano ma il vero re è sempre Dio e quando il re umano sbaglia e quando talvolta capita anche i sacerdoti in Israele sbagliano Dio afferma la sua regalità e il suo sacerdozio suscitando liberamente in maniera carismatica dei profeti delle guide che in maniera non istituzionale ma carismatica appunto guidano il popolo Dio annuncia a Davide tramite Nathan tu vuoi costruire a me una casa sappi che sarò io Dio a costruire per te una casa e il libro delle cronache riprendendo questo testo dice un casato cioè dire una dinastia quando Davide vuole costruire una casa Dio gli dice sarò io a costruire per te una casa e un casato cioè dire perché la tua discendenza continuerà e dalla tua discendenza io susciterò finalmente un messia un unto che finalmente regnerà con giustizia siamo alle origini dell'attesa messianica dalla regalità in Israele e dalla crisi della regalità gradualmente inizia a sorgere l'attesa di un re ideale il messia ecco il re e i sacerdoti erano messia tanti messia tanti unti messia significa appunto unto l'equivalente ebraico del greco cristosso ecco ma a un certo punto si inizia ad attendere un messia per eccellenza un cristo per eccellenza che noi cristiani abbiamo riconosciuto appunto nell'avvento di Gesù di Nazareth Gesù che appunto chiamiamo Cristo cioè dire l'unto il messia l'atteso dalle genti tutta questa teologia dell'attesa messianica affonda la sua radice come testo base proprio in 2 Samuele 7 1 17 ed è un testo che ci accompagnerà in fondo per tutto il tempo dell'avvento fino al Natale e proseguiamo questo percorso che vi ho proposto del Bible Project in italiano col secondo libro di Samuele il secondo libro di Samuele narra la storia di Davide come re di Israele la trama si suddivide in due fasi e a una stagione di successo e benedizione segue un fallimento morale di enormi proporzioni segnato dalle sue tristi conseguenze il libro termina con una conclusione ben articolata che rispecchia i momenti positivi e negativi della vita di Davide generando la speranza in un re futuro che provenga dalla sua discendenza il secondo libro di Samuele riprende la narrazione dalla morte di Saul Davide sorprende tutti componendo questo lungo poema in cui piange la morte dello stesso uomo che aveva cercato di ucciderlo ancora una volta l'autore ci mostra l'umiltà e la compassione di cui è capace Davide è un uomo che si addolora persino della scomparsa dei suoi nemici dopo questi fatti Davide vive un periodo di successi e benedizioni divine tutte le tribù israelite si riuniscono di fronte a Davide chiedendogli di essere da lui unificate in qualità di loro re non appena diventa re Davide si recca immediatamente nella città di Gerusalemme la conquista e vi stabilisce la capitale di Israele ribattezzandola Sion a partire da quel momento Davide vince molte battaglie ed espande il territorio di Israele dopo aver reso Gerusalemme la capitale politica di Israele vuole che ne diventi anche la capitale religiosa fa dunque trasportare l'arca dell'alleanza nella città nel capitolo 7 del secondo libro di Samuele considerando che ora Israele ha una casa stabile Davide dice a Dio di pensare che anche la sua presenza dovrebbe avere una dimora permanente pertanto chiede il permesso di costruire un tempio in onore del Dio di Israele Dio ringrazia Davide per il pensiero ma gli dice che di fatto sarà lui a costruirgli una dimora una dinastia il capitolo 7 del secondo libro di Samuele è fondamentale per capire la storia della Bibbia nella sua totalità questo perché Dio qui promette a Davide che dalla sua discendenza regale verrà un re in futuro che costruirà il tempio di Dio sulla terra e fonderà un regno eterno ed è proprio questa promessa messianica a Davide che verrà poi ripresa e sviluppata ulteriormente nel libro dei salmi e anche in quelli dei profeti ed è proprio questo re che si collega alla promessa fatta da Dio ad Abramo ovvero per mezzo del futuro regno messianico Dio porterà la sua benedizione a tutte le nazioni proprio qui in mezzo a tutte queste benedizioni divine le cose precipitano improvvisamente Davide commette un errore fatale non fatale per lui ma per un uomo di nome Uria uno dei soldati più apprezzati di Davide dalla sua terrazza Davide vede la moglie di Uria Bathsheba mentre fa il bagno Davide va a trovarla i due vanno a letto insieme e lei rimane incinta a quel punto prova ad occultare l'accaduto facendo assassinare Uria e sposandone la vedova è semplicemente orribile dunque quando il profeta Nathan affronta Davide riguardo a questa questione egli confessa immediatamente quello che ha fatto è devastato si pente e chiede a Dio di perdonarlo Dio lo perdona ma non elimina le conseguenze delle decisioni di Davide il risultato di questa orribile scelta è lo sfacelo della famiglia di Davide e del suo regno questa sezione racconta l'evolversi di una storia tragica proprio come quella della caduta di Saul i figli di Davide finiscono per ripetere i suoi stessi errori ma in modo persino più drammatico Amnon Abusa sessualmente di sua sorella Tamar il loro fratello Absalom lo scopre e fa assassinare Amnon a sua volta ordisce un piano segreto per spodestare suo padre Davide e comincia una ribellione su larga scala così per la seconda volta Davide è costretto a fuggire dalla sua stessa casa per nascondersi nel deserto ma in questa occasione non è innocente la ribellione si conclude con l'uccisione del figlio di Davide con il cuore a pezzi Davide ancora una volta si affligge per la morte dell'uomo che aveva cercato di ucciderlo gli ultimi giorni di Davide lo rivedono sul trono ma come un uomo distrutto ferito dalle tristi condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio era l'alba ed essi non volero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua Pilato dunque uscì verso di loro e domandò che a cosa portate contro quest'uomo e gli risposero se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato e allora Pilato disse loro prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge gli risposero i giudei a noi non è consentito mettere a morte nessuno così si compivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire Pilato allora rientrò nel pretorio fece chiamare Gesù e gli disse sei tu il re dei giudei e Gesù rispose dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me Pilato disse sono forse io giudeo la tua gente i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me che cosa hai fatto e rispose Gesù il mio regno non è di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei ma il mio regno non è di qua giù e allora Pilato gli disse dunque tu sei il re e rispose Gesù tu lo dici io sono re per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità chiunque dà la verità ascolta la mia voce e gli dice Pilato che cos'è la verità? che cos'è la verità? domanda davvero profondissima che Giovanni mette in bocca a Pilato in questo testo che è davvero il vertice l'epilogo della riflessione sulla regalità nelle scritture riflessione che abbiamo avviato da lontano dalla disputa monarchica in Israele nel primo libro di Samuele ai primissimi capitoli e che poi abbiamo visto prendere una direzione particolare nel secondo libro di Samuele al capitolo settimo come anche nel video molto bello col quale davvero mi complimento con Sabina circa l'inizio di un'attesa di un re ideale il cui regno avrebbe avuto caratteristiche profondamente diverse un regno eterno per noi il Messia l'atteso il consagrato per eccellenza è Gesù è il Signore lui è re lui è sacerdote lui è profeta ecco lui Gesù assomma in sé tutti i presupposti dei mediatori di Israele il re e Israele riteneva che come del resto anche i popoli limitrofi che il re fosse il figlio almeno adottivo di Dio Gesù non è figlio adottivo Gesù è figlio realmente di Dio lui è sacerdote non alla maniera di Levi o di Aronne dirà la lettera agli ebrei ma secondo un sacerdozio particolarissimo che affonda la sua radice direttamente in Dio nella eternità del suo progetto tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec secondo l'ordine di Melchisedec la lettera agli ebrei recupererà l'idea del sacerdozio di Cristo non scontata perché lo sappiamo Gesù per dinastia per origine non era sacerdote non era della tribù di Levi Giuseppe lo inserisce nella tribù di Giuda dalla quale veniva Davide e dunque il regno la regalità il re appunto eppure Gesù è figlio di Dio e quindi possiede una regalità un sacerdozio e una profezia ben diversa da quella data agli uomini ecco perché noi diciamo di Gesù che è re sacerdote e profeta ecco perché parliamo delle tre dimensioni del cristiano della comunità cristiana che affondano le sue radici proprio nelle caratteristiche di Cristo nelle sue dimensioni Gesù come re nell'esercizio della carità come abbiamo visto questa pagina bellissima lui è re quando è condannato a morte ecco non si vive la regalità non si dimostra di essere re quando tutto va bene quando tutti ti osannano quando tutti ti approvano ma tu dimostri veramente chi sei nella prova vediamo in questo testo mirabile che all'alba di quella Pasqua i sommi sacerdoti Caifa i sommi sacerdoti e poi l'altro che comandava davvero Anna portano Gesù arrestato al pretorio ma non entrano nel pretorio perché secondo la cronologia dei fatti della passione e della Pasqua di Giovanni ancora la Pasqua doveva essere mangiata il giorno in cui Gesù fu messo in croce era la vigilia della Pasqua ebraica e i sommi sacerdoti non entrarono nel pretorio per non contaminarsi Pilato fa la spola entra ed esce gli esegeti contano sette entrate ed uscite di Pilato Pilato è instabile incerto non sa oscilla non sa se dare ragione ai giudei oppure dare ragione al Cristo ed innanzi la miseria umana dei sommi sacerdoti che sbrigativamente alla vigilia della Pasqua vogliono liberarsi di Gesù del Signore Pilato il potente romano il procuratore romano non sa a chi dare ragione e Gesù silenziosamente da condannato a morte afferma la sua regalità da interrogato diventa interrogante Pilato fa una domanda ma poi a guidare l'interrogatorio è Gesù dici questo da te o altri lo hanno detto l'ultima domanda che Pilato farà a Gesù che trionfa nel suo amore nella sua carità nella sua adessione alla volontà di Dio è una domanda esistenziale profondamente antropologica che apre uno squarcio nel cuore di Pilato che cos'è la verità dinanzi tanto amore dinanzi tale re il Signore che mostra la sua regalità sulla croce tutti ci domandiamo che cos'è la verità dinanzi la croce tutte le nostre certezze finiscono e non possiamo che lasciarci raggiungere dall'amore sconfinato che Cristo ha offerto sulla croce un amore eterno che continua a raggiungerci nella irradiazione del mistero pasquale che è l'Eucaristia la vita di grazia la vita liturgica la vita di carità la vita di annuncio che la comunità cristiana vive nella potenza dello spirito lasciandosi raggiungere dalla potenza eterna della Pasqua passiamo alle domande le sto leggendo e che bello sono tante allora sono Teresa da Novara seguo Maria Visione in streaming e in genere non manca questa rubrica che mi tiene compagnia mi piace molto il libro trattato oggi di Samuele e penso che siamo tutti traditori di Dio pertanto l'attualità del testo anche per come è stato trattato da Don Fabio è inequivocabile vorrei sapere dove posso trovare anche il video così chiaramente esplicativo che avete proposto bene questa è una domanda per me allora esattamente lo puoi trovare su Youtube cioè nonostante io adesso leggo il tuo numero quindi se mi autorizzi magari me lo scrivi lo scrivi ovviamente al call center qui è già scritto ti farò avere il link Youtube Giulia da Roma buonasera ho saputo dai social di questa trasmissione l'ho voluta seguire un po' per curiosità è stato interessantissimo la chiarezza del sacerdote ma anche i video se è possibile vorrei sapere se ci sono libri nella Bibbia similari a quelli di Samuele per contenuto ed esposizione e poi scusate la banalità della domanda ma chi è che scrive questi libri bene intanto vedo che questa rubrica ti fa tanti stimoli ti fa innamorare delle scritture della Bibbia quindi direi io ti inviterei ad andare dal tuo parroco dal tuo sacerdote nella tua comunità e farti dare qualche indicazione se esiste un percorso di lezione divina se esistono dei gruppi biblici se esiste un corso di teologia di base per conoscere meglio le scritture chi scrive questi libri Dio è autore attraverso gli uomini bellissimo Dio vive accanto agli uomini agisce in loro l'uomo fa un'esperienza di Dio e poi a un certo punto mette per iscritto tale esperienza sotto l'azione dello stesso spirito ecco il Signore guida la comunità cristiana all'interno della quale ecco tanti scritti per esempio del Nuovo Testamento hanno preso forma come un giorno guidò il popolo di Israele nel suo vissuto credente e all'interno della vita del popolo a un certo punto in diverse fasi non possiamo più ovviamente entrare nel merito specifico iniziarono a sorgere dei corpus scritti appunto dei libri che iniziarono a prendere forma primo secondo libro di Samuele te lo consiglio davvero di leggere primo e secondo libro dei re pure molto interessante continua la stessa storia è la storia deuteronomistica fondamentalmente è uno spezzone di testi scritturistici che prende forma tra il 722 e il 622 avanti Cristo dopo che il Regno del Nord perde la propria autonomia e il Regno di Giuda da Gerusalemme assiste alla sconfitta del Nord di Samaria e quindi in questa fase di grande crisi e paura rivede la sua storia alla luce della fede nel Dio di Israele puoi anche leggere il primo e il secondo libro delle cronache che con una prospettiva diversa di alcuni secoli in una seconda fase di redazione la cosiddetta redazione sacerdotale rimette mano a raccontare questa stessa storia ma con delle sfumature diverse un po' anzi vi dicevo che la profezia di Nathan dice che Dio costruirà a Davide una casa se questa parola è ancora dubbia il libro delle cronache preciserà che Dio dice a Nathan da riferire a Davide ecco il Signore costruirà per te un casato cioè dire una dinastia dalla quale sorgerà un re giusto il Messia appunto e la Bibbia insomma man mano che tu la leggi ti viene sempre più appetito quindi inizia però vai dal tuo parroco fatti guidare da lui Don Raffaele da Catania in un sacerdote se qualcuno insorgerà per seguitarti a cercare la tua vita la tua anima o mio Signore sarà conservata nello scrigno della vita presso il Signore tuo Dio sono le parole che Abigaille è la moglie del cattivo Nabal pronuncia verso Davide le ritroveremo quasi alla fine di questo libro e mi sembrano molto belle perché è un augurio di eternità serena a qualunque uomo perché ognuno di noi morirà quando sarà il suo turno ma per poter sperare in questo augurio che dà un gran senso di pace di ottimismo ma per poter operare no sperare in questo augurio che scusami Don Raffaele ma poter sperare in questo augurio dà un gran senso di pace di ottimismo grazie per la trasmissione complimenti al sacerdote grazie Don Raffaele davvero se questo era l'ultimo intervento chiudiamo ce ne è ancora uno allora dico così che hai puntualizzato molto bene il fatto che nel susseguirsi delle regalità nel susseguirsi dei re ad affermarsi è la vera regalità che è quella di Dio e i re hanno le loro ascese i loro tramonti ma colui che si staglia sempre nella sua regalità che non ha fine è appunto Dio è Cristo Signore re dell'universo per noi bene qua c'è una va bene io la leggo un amico da Roma ho scritto questa considerazione qualche tempo fa che vi sottopongo nel primo libro di Samuele è evidente la derivazione delle due figure quella religiosa e quella dell'apparente autorità di decisione dalla religione e dalla struttura egiziana che con Mosè è stato portato in Israele gli ebrei tra di loro si chiamano liberamente come vogliono figli di Davide popolo eletto ebrei israeliti eccetera ma quando qualcuno che non è ebreo si permette di scegliere uno di questi appellativi per indicare il popolo di Israele subito sollevano eccezioni arricciano il naso e ci si stanca di dover ogni volta consultare l'enciclopedia di Dio o di quant'altro ci impongono molto spesso a noi poveri ignoranti almeno per loro e lo fanno alle volte con la stessa stupida ed irritante pignoleria con cui i musulmani ci chiamano infedeli scusate ma è ciò che penso beh ognuno poi giustamente ha le sue posizioni interessante il dibattito pur ovviamente nel rispetto perché siamo fratelli anche tra le religioni appunto monoteiste che risalgono tutte quante appunto alla figura di Abramo ad esempio ti ringraziamo per le tue considerazioni per aver puntualizzato il discorso che soprattutto con Davide emerge chiaramente l'idea dei due poteri il potere religioso e il potere civile l'idea della reggia che è stata costruita prima e l'idea appunto del tempio che viene costruito accanto accanto alla reggia sono delle strutture che poi nella rilettura medievale insomma acquisteranno davvero una grande una grande importanza innamoriamoci delle scritture è interessante il discorso che hai fatto tu sulle diverse denominazioni del popolo dietro ogni parola dietro ogni passaggio dietro ogni immagine dietro ogni modo in cui Israele chiama se stesso o i popoli chiamano Israele vi è una teologia particolare una sfumatura tutte da conoscere in maniera competente prima di poter appunto dare un'indicazione su una rispetto che un'altra interessante che questo percorso ecco innesta anche il desiderio di una conoscenza di un approfondimento è molto vero Giuliana da Roma ringrazio infinitamente per questa lodevole trasmissione e Lara d'Ancona ci dice oggi ho chiesto a voi di Medievision una preghiera per me per i miei familiari per una situazione delicata dove necessito l'aiuto del Signore e l'intercessione della Vergine ascoltando questa trasmissione ho capito che più che chiedere devo dare vi ringrazio molto che bello grazie grazie a voi ecco la mia preghiera era quella di avere invece i vostri commenti e grazie perché sono stata ascoltata bello bello il dibattito bello il confronto grazie a Don Fabio Pizzitola grazie a te sempre e grazie a questa giovanissima ragazza brava veramente e complimenti complimenti a voi che avete partecipato con noi l'appuntamento della Casa della Parola è a giovedì prossimo sempre alle 18 buona serata grazie a tutti grazie a tutti